Entro fine febbraio gli studenti del liceo Cotugno torneranno a casa. La sede del liceo annessi al convitto Domenico Cotugno ha avuto tutti i certificati di agibilità dopo i lavori per il miglioramento sismico ed efficientamento energetico di oltre 6 milioni di euro. Si torna dunque nella sede storica di via Leonardo da Vinci a Pettino. Il vicepresidente della provincia Vincenzo Calvisi ha ringraziato dirigente, studenti e personale per aver tenuto duro in questi anni. Nel muspo di via Ficara tutto è pronto per il trasferimento. Dirigente e personale anche questa mattina sono alle prese con gli scatoloni per il trasloco. Nel corso del mese di febbraio gli uffici della scuola e le classi potranno far rientro nella sede di Pettino lasciando il muspo dal 7 al 12 febbraio. Infatti gli uffici di presidenza, quelli generali e amministrativi andranno in via Leonardo da Vinci. La scuola ormai è fruibile dice la provincia ma si è deciso di slittare un po' la riconsegna per permettere alla scuola di terminare la fase delle iscrizioni concluse il 4 febbraio che sono andate molto bene per evitare problemi con le linee internet e telefoniche. Progressivamente quindi rientreranno gli uffici e poi le classi con oltre mille studenti dei licei classico, linguistico e delle scienze umane ed economiche e sociale oltre a 150 unità di personale. Spostare un'istituzione scolastica non è spostare un appartamento. Abbiamo archivi di 1500 persone. Per il momento e per la prossima settimana da lunedì noi inizieremo il trasferimento. Ovviamente da lunedì a sabato non potremo accogliere il personale dall'esterno né docenti né studenti né alunni né famiglie poiché riallestire una navicella spaziale è abbastanza complicato. Da lunedì cercheremo di riutilizzare la palestra in via Leonardo da Vinci. Piano piano. Studenti, studentesse, le loro famiglie, i docenti, le docenti, il personale ATA straordinario. In questi anni nella gestione di un'infinità di difficoltà. Il covid sembra quasi sullo sfondo rispetto al resto che comunque abbiamo superato. Mantenendo l'unità, mantenendo le iscrizioni mi sembra miracoloso e questo è un successo di tutta questa comunità educante che non ha mai smesso di lavorare. L'unica cosa che vorrei dire è che rientrando come cuore e mente del Cotugno avremo modo di verificare come meglio far rientrare le persone che non sono pacchi e che hanno diritto a rientrare in un luogo comodo e accogliente. Faremo di tutto come abbiamo sempre fatto affinché rientrino in serenità col sorriso, in salute, recuperando una socialità che il Cotugno non ha perso soltanto durante il covid ma ormai da cinque anni.